Conosciuti e raccontati, il libro del professor Mario Mello è un'iniziativa dell'internazionale Innerwill Club Pestum Città delle Rose. Ne parliamo con la Presidente Lidia Palo. Come Presidente del Club Innerwill Pestum Città delle Rose sono lieta ed orgogliosa di presentare il libro Conosciuti e raccontati del professore Mario Mello. Era in programma anche la presenza del professore questa sera con noi ma per le limitazioni legate al momento tragico che stiamo vivendo questo non è stato possibile. L'attività del club comunque continua, va sempre avanti per non perdere il senso delle relazioni, del lavoro, il senso della vita. Abbiamo iniziato ad ottobre con la presentazione del libro di Marco Nembo La prigione di carta. Abbiamo aderito poi all'iniziativa Io leggo perché a sostegno delle scuole ed oggi ci troviamo a presentare appunto questo libro del professore Mario Mello. Con la professoressa Ermelinda Delì invece parliamo dei progetti futuri. Il progetto nasce da un'idea semplice mia e dell'amica Anna Maria di voler visitare la città di Sibaris, l'antica progenitrice di Pestum. Quasi per fare un omaggio diciamo alla nostra Pestum volevamo andare a Sibaris. Il progetto è stato, l'idea è stata ben consolidata perché le amiche una volta conosciuta la nostra idea hanno reso possibile questo bellissimo progetto. Il progetto in effetti ha l'obiettivo che si è posto è quello di creare una rete di incontri con gli altri club che sono sedi anch'essi di siti archeologici che sono patrimonio dell'umanità come la nostra bella Pestum. Noi abbiamo fatto parecchie visite, siamo partiti da Siracusa, poi l'antica Capua passando per Velia, l'antica Elea, la grande città di Parmenide e per Buccino l'antica Volcei e purtroppo come dice Anna Maria, il virus ci ha fermato alle porte di Pompei, la città, la più bella città morta tra quelle vive che diceva ieri sera appunto Alberto Angela. Nella speranza di una normalità ripristinata al più presto riprenderemo le nostre visite e cercheremo di portare a termine il nostro progetto.